Ancora una notte insonne, sempre qui dallo stabilimento ospedaliero San Salvatore di Muraglia a Pesaro in attesa di esito dell'esame istologico e quindi di un prossimo intervento e cura. Irene ancora insonne e in uno stato di riabilitazione, quindi già questa mattina nuovamente altre sedute riabilitative con la fisioterapista. Stiamo andando in una maniera veramente allucinante perché al male si aggiungono brutte notizie da parte della giustizia italiana che ancora non risponde alle nostre richieste di verità e giustizia e soprattutto non ci dà informazioni riguardo le denunce, gli espossi, le querele che abbiamo ratificato ormai da tanto tempo. Le autorità giuridiche, ripeto, sono negligenti, intenzionali e così lo stesso Presidente della Repubblica che non fa altro che raccontare belle parole a tutto il mondo e a tutti gli italiani ma non fa nulla delle sue funzioni, anzi va contro la Costituzione della quale è garante. Anche tu Ministro dell'Interno Piante Dosi e Ministro della Giustizia Nordio siete reticenti e negligenti, ne assumerete tutte le responsabilità. Continuate a seguire le informazioni reali sulla Digital News 24 e non quelle tediose dei canali nazionali che sono ormai lottizzati dal governo, dai potentati economici, da loggi massoniche, da servizi segreti deviati e tutti coloro che la utilizzano per i propri fini e scopi. Un saluto di nuovo, seguiteci. la Digital News 24 presenta, tratta dalle storie di Alessio Belli, il docufilm La Bambina venduta, un fatto grave realmente accaduto. Alessandro Corbelli presenta, la Bambina venduta. Facendo il nostro governo, la lotta alla mafia. Che cosa dobbiamo fare? Vi volete arressare? Vi volete sentire? O dobbiamo andare avanti? Caro Presidente Mattarella, io vado avanti e lei una pazienza fa il tifo per noi. Noi siamo con le vittime della violenza sulle donne. Noi siamo con le vittime della mafia. Verità e giustizia per Irene Palacino.